Allora ragazzi, purtroppo mentre registravo la fase finale, avvero lo scontro con il boss, è stata stata la registrazione, mi tocca rifare tutto, l'avevo pure ucciso, avevo sbloccato mille e mille trofei relativi alle uccisioni, però il destino infame con me non c'è niente da fare. Rifacciamolo! E' stato anche piuttosto divertente lo scontro, eh, l'amico. Anche perché a me piace andare di stealth, come avete già visto. E' un massacrato un po' di più. Ripiegare! Ripiegare! Aspettate le unità! Ripiegare! 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 Attacate un perimetro! Sono morti top 3! Andatevene di lì, casco! Oh Gesù! Attenta, Lara! E qua ci rimani secca. Io te l'ho detto! Non mi ascolti? madonna mi sono vista speccicata per terra morta comunque ragazzi non so voi ma io vorrei davvero avere la forza di volontà di Lara Croft non riuscirei a fare di tutto ed eccoci qua che il sole si eclissi e l'oscurità cancella il mondo che conosciamo che le ombre si risolvano e la luce splenda sul mondo di nostra concezione e il potere di Gubur Khan che figo questo scenario è troppo bello credo che lo userò come copertina probabile per questo episodio distruggi chiunque minacci il tuo potere e la tua forza qui c'era il fango devo riuscire a liberarmi io lo so Lara facciamo Batman Lara insomma avete capito non c'è nessun altro non c'è nessun altro non c'è nessun altro Lara dai fuggi oggi prendiamo il controllo del nostro destino ecco di coglione ma com'è che mi ha visto da dai mi mancava il calzadizio per un trofeo devo stare la vicina che fra dei cadaveri Lara io vorrei provare a bloccare con il sable in trofeo dai tre insieme ne voglio scusate ragazzi se visso insomma dando fastidio così dai non ce l'ho fatta perché ho sbagliato all'inizio vabbè ci riproverò poi per fatti miei sto sudando comunque è un'altra volta caldissima non lo sopporto niente mi impedirà di ricreare il mondo te lo impedirò io oggi prendiamo il controllo del nostro destino oggi creperai malissimo per la seconda volta la mia vita non puoi affrontare non puoi affrontare un dio finora ti ho risparmiato ora basta pensavo che fossi più furba di così ouch sono io quello che deve proteggere ci siamo quasi attacca quanto vuoi lo vulcan mi renderà più forte pensavo che fossi più furba di così con la pistolezza no no OUCH! Che stasparando? Dai, Elara! Ti prego! Ti prego, Elara! Diciamo che dopo aver ucciso nostro padre non ha molto diritto di chiedere certe cose, certi favori. Per conquistare il tesoro, l'esploratrice, Elara Troth, dovrà battere il re. Battere il re? Credo che avrebbe dare di me al riguardo. Tesori miei, potreste per favore fermarvi un secondo? Oh, certo mia regina! Buona! Mi fai vedere? Ma certo! Ci sei tu? Ci sono io? E c'è papà! Dove siamo? Alle Hawaii! Con questa chiave e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo senza difetti né dolore! Se avessi quel potere, tu cosa faresti? Ecco la mia piccina! Che non si aspetta di certo! L'attacco di un giocuaro! Dove potremmo andare per la nostra prossima pentola? Ho sentito, per esempio, che l'Antartide è una meta perfetta! Papà! Ah, ma io di no, allora magari le saline dello Utah! Ma no, Richard! So dove possiamo andare! Davvero? Alle Hawaii! Sì, sì, potrebbe essere credibile! Vedete di Lara come sarebbe stata? Addio! Se la Trinità non avesse rotto le statule! Addio! E... E salvate il mondo! Per l'ennesima volta! E salvate il mondo! Per l'ennesima volta! All'arrivo di una catastrofe, il Dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un Dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti, ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Mi piace questo mondo, non è... non è perfetto. Oddio. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Proteggi i paesi di Dio. Ti prego. Ti prego, Lara. Teatro, io ti prego. Due giorni dopo Ti sarà giovane che copula con Abby LOL Onurato Onurato Mia madre Guerriera Ribelle Regina Sarà venerata per molte generazioni Mi manca Ora Seguiremo il suo spirito Per riunire Paideti Grazie Allora torna qua chiacchuto Ah davvero? Ti manca la giungla? Parti in cerca degli alberi di pesce? Ah Abby e io faremo un giro sulla costa Sono contenta E tu invece? Io credo che rimarrò qui ancora un po' A recuperare qualche altro reperto? Sul serio che farai? Non lo so Mi farò guidare da Ezio Mi dirà lui come aiutarlo a risollevare Paideti Wow Basta con le tombe Voglio stare un po' tra i piedi Strano Ma tu non dovresti andare a fare i bagagli No Mi avrei tra i piedi fino a domani Resta tutto il tempo che desideri Lara Abbi cura di te John Quando Paideti ti splenderà Forse potrò raggiungerti E scoprire altro del mondo esterno Quando vuoi Devi solo dirlo Anche tu Uccio Se ne avrà voglia Oh John Lara dice che sei fidanzato Verremo al matrimonio Aspetta aspetta Ezley ti va a dimostrarmi i progetti del nuovo tempio? Si Sarà magnifico Che avventura Carino il finale È finita anche questa avventura Un po' mi dispiace Mi è piaciuto questo Shadow of the Tomb Raider Anche se Non al 100% Sotto alcuni aspetti lo trovo Lo trovo appunto Meno Meno completo di Rise Of the Tomb Raider Poi appunto Come dicevo Come dicevo Ai miei amici Mi ritrovo nella giungla Però praticamente Vengo attaccata dagli animali del posto Solamente due volte Perché appunto È scriptata pure la cosa Se voglio incontrare Appunto Jaguario E cioè Devo andare io A dare la faccia a loro E la cosa Mi ha dato un pochettino fastidio Mi sembra piuttosto inverosimile Vabbè che Insomma Però Anche la storia Diciamo che Mi è piaciuta di più Quella di Rise Però In questo episodio Hanno particolarmente Particolarmente Abbastanza Migliorato l'esplorazione Alcune Alcune caverne Sono state veramente belle Non parlo delle tombe Perché Come tombe A parte due e tre Le trovo meno ispirate Del solito A parte che Ce ne sono anche di meno Perché aggiungeranno Le prossime Nel 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 E anche le ambientazioni Sicuramente Preferisco la giungla Alla Siberia Però Dopo un po' La monolocation Diciamo che è stufa Preferivo Appunto I vecchi tomb raider O comunque Uncharted Perché Ti offrono Diverse Diverse ambientazioni Da esplorare E Però Tutto sommato È stato un bel gioco Una piacevole avventura Sono curiosa di sapere Come Come proseguirà Se Appunto Continueranno Con questa giovane Lara Oppure Ritorneranno Insomma A sviluppare Giochi Con protagonista La Lara Old Che tutti Conosciamo Benissimo Ma vedremo Bene Allora Io ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Per aver seguito Il mio gameplay Spero vi sia piaciuto Mi raccomando Commentate Lasciate like Seguitemi Fate un po' Quello che vi pare E vi do appuntamento Al mio prossimo Video gameplay Un bacione a tutti E un saluto Da Giro alla Fatima Mi ero sbagliata Su tutto Credevo Che assumere Il controllo Della mia vita Significasse partire E fare qualcosa Di straordinario Credevo Di dover sistemare Tutto io Ma i misteri Del mondo Vanno onorati Più che le solite E io non sono altro Che una dei loro Molti protettori Non so cosa Bia in servo Il futuro Jonah Ma sono ansiosa Di affrontare Qualsiasi avventura Si staglia All'orizzonte Magari Senza prendermi Troppo sul serio Te Miss Croft Grazie Winston Ma per ora È bello Essere di nuovo a casa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.